Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qui con un arrivo decisamente inaspettato. Come avete letto dal titolo, è successa una cosa un po' particolare, una roba che non mi aspettavo, non doveva succedere in teoria. Ma prima di partire, via con la sigla. Se già non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, attivare la campanella, così YouTube è contento delle interazioni e spamma in giro il video, così magari riusciamo a crescere più facilmente. Inoltre vi ricordo che in questo video in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram, mi chiamo Noto Megapixel se mi volete seguire. Detto questo, possiamo iniziare. Story time, cos'è successo? Era la seconda settimana di giugno. Mi scrive un ragazzo su Telegram chiedendomi se ero io che gestivo il canale di Noto Megapixel. Mi dice che praticamente c'eravamo già sentiti quando ai tempi cedevo i cuccioli di criceto, vedi video di settembre, ottobre, novembre, dicembre? Metto la card qua sopra nel caso in cui qualcuno non le avesse visti. Dicendomi che però il tempo non erano più disponibili e quindi poi dopo lui nei mesi successivi ne aveva preso uno per i fatti suoi. Mi spiega un po' la situazione, è anche lui uno studente universitario fuori sede che insieme al suo conquilino avevano preso appunto questo criceto per avere un animale da compagnia generalmente. Cosa succede però? A fine maggio il suo conquilino deve tornare a casa, sua madre non vuole animali e quindi il criceto rimane a Bologna insieme a questo ragazzo. Questo ragazzo però a giugno finisce i suoi esami, finisce di laurearsi e quindi non sta più a Bologna e deve tornare a Milano praticamente. Quindi mi contatta chiedendomi se posso prendere il criceto perché non se lo può portare in treno, non se lo può portare a casa e quindi non sa dove metterselo. Tralasciamo tutto il fatto del prendete un animale con responsabilità perché poi dopo è un impegno a lunga data, tutta roba di così e è andata così. Non voglio fare la paternale a nessuno sinceramente, ok? E per favore non fatela neanche posto nei commenti. Al momento quando io ho riuscito a questa ge lì era un po' molto titubante perché avevo già due criceti, più il coniglio, più ho tanti altri impegni al momento. Veri un altro animale in casa poteva essere decisamente impegnativo, quindi gli avevo chiesto gentilmente di cercare qualcun altro oltre a me. Così comunque da loro piuttosto che a me, così, cioè nel senso io non mi prendo una responsabilità in più, ok? Passo una settimana, mi ricontatta il ragazzo dicendomi che non ha trovato nessuno e che lui però il venerdì, era giovedì quando mi ha scritto, doveva partire. E quindi vabbè, all'ultimo secondo mi sono ritrovato e dovevo andare a recuperare un cricetino. Il ragazzo mi aveva detto che me lo dava già fornito di gabbia e che doveva avere circa un anno, doveva essere femmina e non sapeva altro della specie, del nulla. Quindi era un po' alla cieca come recupero, ok? Mi avevo mandato qualche foto e io ho visto che doveva essere in teoria un Campbell, però non ne sapevo molto di più, non sapevo quanti mesi avesse e tutto il resto. E quindi nulla. Quindi io e vera, perché ho chiesto a lei di accompagnarmi visto che andando da solo mi veniva un po' d'ansietta, se andate a recuperare questo cricetino. Ecco a voi le riprese. Ed eccoci, quindi poi giunti a casa. Ora che sto facendo le riprese, sono passato già qualche giorno perché ho voluto farlo un attimo ambientare, visto che era abbastanza nervosetto. Ho deciso di chiamarlo Chucky e adesso ve lo mostro se riesco a farlo, ok? Perché ha gli occhietti rossi, è un Campbell colorazione tipo albina, qualcosa del genere. È molto bello come colore sul pelo, però ha tipo gli occhietti rossi ed è incazzatissimo. Cioè veramente urla di continuo, arrabbiatissimo col mondo intero ed è già un miracolo che lo riesco a far prendere in mano. Contro ogni aspettativa, io ho controllato un po' qua sotto e non è femmina, ma è un maschietto, quindi abbiamo tutti i maschietti. Abbiamo i due fratellini, poi adesso c'è anche Chucky e poi c'è anche tutti i maschietti, insomma. E va bene. Cioè meglio così perché così non ci sono neanche odori strani che possono far innervosire gli altri due cricetini e tutto il resto, però così. E quindi nulla, quindi mi sono ritrovato con questo nuovo arrivo completamente inaspettato, ma che trovo veramente stupendo. Il ragazzo che me l'ha dato me l'ha dato già fornito della sua gabbia, che adesso tra pochissimo vi mostrerò. E mi aspetto una valanga di insulti, ma ci arriviamo. E io semplicemente mi sono limitato a portarla a casa, ad organizzare un po' meglio la gabbia, per quello che posto devo, e poi a cercare di farla ad ambientare. È veramente super super carino da vedere. Fatemi sapere anche voi se vi piacciono i cricetti con gli occhi rossi. Tipo a me non mi fa né caldo né freddo, a mamma non piace tantissimo, proprio per gli occhietti rossi. È un po' indemoniato, per quello poi ciacchi, tipo la bambola assassina se non l'avete capito. Ok, andiamo a vedere la sua gabbietta, dai. Ok, partiamo fin da subito dalla location. La location nel quale ho posizionato la gabbia è comunque abbastanza buia. Qua c'è la gabbia dei cricetti che è molto più esposta e luminosa. Ho deciso di metterla qua perché avendo gli occhi rossi sono più soggetti alla luce, cioè gli dà più fastidio. E quindi ho preferito posizionare la gabbia in un luogo lievemente più buio, cioè comunque c'è la luce naturale, però non gli arriva direttamente. Così che, visto che comunque è un cricetto abbastanza attivo anche di giorno, quando esce non si becca il sole direttamente in faccia, ecco. Poi, gabbia. Allora, sappiamo già tutti, penso, che la gabbia è piccola. Nel senso che non rispetta le misure minime di 60x40, è tipo 40x30 di profondità, altezza altri 40. Ma perché non l'ho cambiata? Prima di tutto perché il criceto ci vive già, da quello che mi è stato detto, da parecchi mesi, se non addirittura un anno. Penso che chiunque sia un attimo informato sui criceti sa che sono animali estremamente abitudinari e che soprattutto non hanno una vita tanto lunga, hanno una vita di un anno e mezzo, due anni al massimo. Ha un criceto già quasi di un anno, se non di più. Andargli a cambiare la gabbia è un sovraccarico di stress che io personalmente non mi sento di dargli. Cioè, personalmente, vorrei evitare che un animale già comunque anzienotto si stressi così tanto. Quindi ho preferito, visto che lui non mostra segni di stress, non rosicchia le sbarre, non si arrampica né nulla, ho preferito a lasciargli la sua gabbia così. Ho fatto però alcune modifiche per cercare di renderla più accogliente. Prima di tutto, il proprietario precedente utilizzava il tutolo di mais come lettiera, ne metteva veramente poca, tipo un dito. Io quindi ho deciso di togliere il tutolo di mais che era duro e feriva le zampette e metterci la segatura o trucciolo di legno, ovviamente depolverizzato e in odore. E ne ho messo circa 6 cm, ho riempito completamente il fondo così che l'animale possa scavare e farsi le sue gallerie. Poi ho messo la sabbia per cincillà, che non ha mai avuto in tutto il suo anno di vita e quelli non sa usare, però io l'ho lasciata sia mai che un giorno decida di imparare. Là sotto, adesso vi provo ad aprire e mi urlerà forse addosso, c'è la sua casetta, che è quella che aveva già in gabbia, quindi ho deciso di lasciargliela. Poi da qua c'è il beverino, che vedete là dietro, e il primo tubo per arrivare al primo ripiano. Nel primo ripiano, che ho modificato, ho deciso di metterci la ruota da 20 cm. Era abituato a usare quella da 15 cm, però visto che comunque si sforzava la schiena e la ruota da 15 cm non va bene, ho deciso di mettere quella da 20 cm col cuscinetto, che è più silenziosa e più grande e comoda. Mentre nell'ultimo ripiano, per smuoverla a fare un po' di attività fisica, ho messo comunque le ciotole con l'insalata, che adesso è vuota perché ovviamente di giorno non ne ne lascio tanta, e il mangime, che uso l'oxbow, che è comunque abbastanza equilibrato e bilanciato. In questo modo, diciamo che anche se la gabbia è piccola, comunque lui fa un sacco di moto, adesso sta salendo su per il ripiano, eccoci. E anche per andare a mangiare, insomma, arriva all'ultimo piano, quindi diciamo che comunque si muove. Dunque, questo era il video del mio nuovo cricettino, arrivato completamente a sorpresa, da un recupero inaspettato. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacciono i cricetti con gli occhi rossi, se vi piace il nome Chucky o che altro nome gli avreste dato, anche magari se avete mai avuto animali con gli occhi rossi e di che tipo erano, anche come carattere. Non che ci sia una correlazione fra occhi rossi e cricetti indemoniato, però nel mio caso c'è abbastanza, ecco. Inoltre vi ricordo che ogni lunedì uscirà un nuovo video, se non lo avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e qua sotto in descrizione trovate il link per il mio social Instagram. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!